napoli juventus venerdì primo marzo dopo la vittoria in casa con il siena andiamo in trasferta destinazione napoli per l'ottava giornata del girone di ritorno lo scorso anno finì in uno spettacolare 3 a 3 con la juve in rimonta ora la rimonta la stanno cercando loro ma in classifica sono secondi a 6 punti da noi in questa stagione li abbiamo battuti in supercoppa li abbiamo battuti all'andata ma ora ci aspettano a casa loro in uno stadio stracolmo con 60.000 sugli spalti pronti a scatenare un pandemonio tutta napoli sogna ciao ciao